Il progetto che presentiamo in Biennale si chiama Rethinking Happiness, sottotitolo Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Si tratta di un atteggiamento proattivo rispetto alla progettualità. L'idea di dire noi pensiamo che ci voglia un atteggiamento creativo nel processo, perché solo un processo creativo può generare un progetto interessante, in cui più parti si confrontano rispetto a quelle che sono le criticità, i problemi che oggi abbiamo di fronte. Nuove comunità, nuove polarità è il titolo di questo progetto che riguarda un nuovo insediamento di una comunità ai piedi delle prealpi venete. Vicino a questo paese c'è una grande azienda che ha fatto il suo quartier generale, in cui lavorano migliaia di persone circa, e si trovano diciamo un po' abbandonati in questa terra molto bella, però in una condizione abitativa non interessante. L'idea quindi è quella di costruire una comunità in cui questi giovani hanno un posto in cui riconoscersi per godere di più della bellezza di questo posto. Quello che ci interessa rispetto all'architettura è che l'architettura sia un po' la scenografia di questa vita, per cui quello che si vede anche nei modelli, nei disegni e nelle foto sono tutte le attività che si svolgono in questo posto. Quello che ci interessa è di far vedere la vita che succede, non l'architettura. L'architettura, ripeto, è uno sfondo. Superbazar, periferia di Milano, in un punto in cui la ferrovia incrocia la metropolitana, si va a costruire una nuova situazione di vita pubblica e di residenza che produca della qualità per il quartiere. L'idea era di dare l'alloggio a due categorie sociali, bene o male di pari reddito, gli studenti di extracomunitari, che non hanno particolari conflittualità, per cui far vedere come si può gettare i semi per nuovi modelli di integrazione, cioè andando a capire molto bene le esigenze delle diverse categorie per capire quali possono stare insieme e costruire delle comunità. Urbanismo rurale. A un'ora da Shanghai, un davello per cinese ha costruito una nuova cittadina. Di fianco a questa cittadina c'è una grande terra agricola che questo signore vuole far diventare una nuova sorta di comunità agricola. L'idea è che in questi 4 milioni di metri quadri di campagna vuole costruire una sorta di città a bassissima densità residenziale che galleggia sulla campagna, cioè esiste del residenziale a bassa densità su una campagna in cui lavorano i contadini. La città di fatto è palafittata, per cui il traffico passa sotto alle case. La cosa interessante di questo progetto è l'idea di far vedere come in Cina si potrebbe costruire a bassa densità mantenendo la campagna e questo può rappresentare un altro modo di concepire quelli che sono i confini, che non devono essere sempre dei confini netti ma che sono dei cambiamenti più graduali di paesaggio tra la città e il fuori della città. Grazie a tutti.